Tra le varie metodologie di valutazione degli immobili, la metodologia economico-finanziaria è quella che sicuramente meglio si presta alla valutazione degli immobili commerciali, ovvero degli immobili che generano un reddito periodico e tramite l'applicazione del cosiddetto procedimento di trasformazione alla valutazione dei suoli e delle operazioni di sviluppo. Il termine economico-finanziaria deriva dal fatto che la stessa si fonda su principi e criteri che sono applicabili a qualunque altro tipologia di bene di investimento. La valutazione di un immobile commerciale come quella degli altri beni di investimento si fonda infatti essenzialmente su due fattori, sul beneficio economico atteso e sul rischio associato al conseguimento di tale beneficio economico. Per quanto riguarda gli immobili, essenzialmente il beneficio economico è rappresentato dal canone di locazione al netto dei costi operativi che lo stesso genera nel corso della sua vita utile. Mentre per quanto riguarda il rischio associato a tale beneficio economico, lo stesso si traduce in un tasso di rendimento richiesto dall'investitore, dal potenziale acquirente del bene immobile. A seconda della definizione di beneficio economico e di tasso di rendimento utilizzata, la metodologia economico-finanziaria può essere applicata tramite due distinti criteri, un criterio reddituale e un criterio finanziario. Nel criterio reddituale una previsione di reddito atteso di un singolo periodo viene trasformata in un'indicazione di valore atteso tramite la divisione del reddito stesso per un tasso di capitalizzazione, anche noto come cap rate. La metodologia finanziaria, il criterio finanziario, si utilizza invece per trasformare la previsione attesa di flussi di cassa in un'indicazione di valore tramite l'attualizzazione di questi flussi ad un opportuno tasso di attualizzazione, anche noto come discount rate. Se la stima del beneficio economico sia esso reddito o flusso di cassa è relativamente semplice al di là delle eventuali difficoltà connesse al reperimento dei dati sul mercato, la stima dei tassi per quanto riguarda il mercato immobiliare è più complicata rispetto a quanto non avviene nel caso della stima del valore di un'azienda. Mentre infatti si possono, nel caso delle stime aziendali, si possono estrarre dei tassi di attualizzazione stimandole dalle serie storiche dei rendimenti di titoli quotati e poi utilizzando modelli come il capital asset pricing model, questi modelli non sono applicabili nel caso del mercato immobiliare dove gli unici rendimenti riscontrabili sul mercato sono i rendimenti immediati, i cosiddetti yield, cioè i tassi di capitalizzazione, mentre per quanto riguarda i tassi di attualizzazione occorre rifarsi ad altre metodologie.